L'extromista confessa all'autista che durante l'ultima notte con Ivana, in uno slancio di passione ha lanciato dalla finestra gli occhiali di lei. Ivana Mrazova e Luca Onestini sembrano amarsi più che mai. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip ormai da mesi sono al centro delle indiscrezioni nel mondo del gossip italiano. Il primo è stato vittima di un tradimento, da parte di Solène, nel corso dell'esperienza nel reality show, mentre la seconda si è dimostrata la vera rivelazione del programma poiché quasi sconosciuta prima dell'inizio, ma sul terzo gradino del podio al termine dello show targato Mediaset, addirittura davanti alla ben più nota, almeno a livello social, Giulia Deleuze. Detto ciò, la coppia è una di quelle più amate sui social, specie per il loro modo di fare spontaneo, i due non appaiono infatti come due fidanzati di Comodo e diverse Instagram Stories lo dimostrano. Il racconto di Luca su Ivana. Proprio su Instagram, Luca Onestini ha avuto modo di raccontare alcuni dettagli di una serata in compagnia della fidanzata. In una Stories, l'ex tronista ha rivelato all'autista Marco alcuni dettagli su Ivana. Onestini ha prima confessato che i due si rincontreranno presto a Roma, ma che nella serata precedente, il 23 giugno, la coppia è stata insieme dopo che la ragazza era stata via una settimana in Repubblica Ceca, è tornata ieri, è stata via una settimana quindi potete capire. Ma non finisce qui, perché il ragazzo ha aggiunto, ci siamo visti e poi. Lasciando intendere che i due siano stati in intimità. L'autista ha successivamente chiesto se il motivo del ritardo, di circa due ore, fosse dovuto proprio a questo. Sai, una settimana è lunga, ha risposto l'ex tronista di Uomini e Donne.Un siparietto abbastanza piccante. Il siparietto piccante non finisce però qui. Luca ha avuto modo di raccontare infatti all'amico che durante l'atto, presi dalla passione, lui le ha lanciato gli occhiali giù dalla finestra. Mi sono promesso che la prossima volta lancio le scarpe ha proseguito onestine ridendo ed invitando i fan, scherzosamente, a presentarsi sotto casa loro per raccogliere qualche oggetto. Un siparietto curioso quello raccontato da Luca parlando del rapporto con la sua Ivana. Non sappiamo se la coppia arriverà al matrimonio, ma attualmente i due sembrano amarsi come non mai, almeno stando alle varie prove raccolte su Instagram. Chissà se nelle prossime ore arriveranno nuove stories con altri dettagli intimi della coppia, non ci resta che aspettare e continuare a seguire i loro profili, ormai con migliaia di migliaia di follower all'attivo.